Buona la prima. Nel suggestivo scenario del conte di Pozzuoli, il nuovo Savoia supera agevolmente il turno preliminare di Coppa. 3-0 il risultato finale. Qualificazione mai in discussione, condotta di gara impeccabile ed un chiaro messaggio lanciato in vista dell'esordio a Ragusa in campionato. I bianchi, infatti, sono già in forma torneo. Lo si nota sin da subito. Savarese fugge sulla sinistra, servizio per Capitan Guarro, che spara alto in acrobazia. La puteolana soffre il 4-2-3-1, orchestrato da Witter, ed al venticinquesimo il Savoia passa. Caparbe recupero di Agnello in mediana, assist per incoronato, freddo nel superare la guardia del distratto di Domenico, bagnando il proprio ritorno alle falde del Vesuvio con la prima rete stagionale. Savoia padrone del campo. Incoronato, però, non vissa la marcatura, siglata in precedenza. Al trentasesimo solo il plastico intervento di Alcolino sbarra la strada al giovane Manfrellotti, la cui conclusione è sventata con efficacia dall'estremo Granata. Lo Cisano, portiere ospite, decide di rispondere al proprio collega, compiendo un'autentica prodezza su punizione di Napolitano. La gara si accende ed il Savoia cala il bis. Spettacolare il sinistro di Guarro, che sul finire di tempo sembra già spegnere le velleità di rimonta a Flegree. Gli opontini, tuttavia, non appaiono sazi. Palonetto, imbeccato da Manfrellotti, sfiora la terza rete. Questione di centimetri. La ripresa ricalca il medesimo copione del primo tempo. Il mancino di Manfrellotti, però, delude nuovamente. Padroni di casa inoffensivi, nonostante l'estremo tentativo del tecnico Sorrentino, che rivolta la propria squadra come un calzino. Witter, dal canto suo, effettua il primo cambio solo al ventitresimo. Fuori tra gli applausi incoronato, dentro il frizzante Rabbeni. Mossa azzeccata, perché alla mezz'ora Manfrellotti, dirottato al centro, batte con un docile tocco l'incolpevole Alcolino. Un minuto dopo, l'ultima chance degna di nota. Incredibile il doppio errore griffato Rabbeni-Manfrellotti, ma il 4-0 casalingo, probabilmente, avrebbe rappresentato punizione eccessiva inferta ai Flegrei. Grazie a tutti.